La pallamano è la mia vita, la pallamano è lo sportiamo, è ciò che mi diverte e voglio viverla al meglio. Io gioco col contratto, io gioco con il contratto, io gioco con il contratto, io gioco col contratto, io gioco con il contratto. Io gioco con il contratto, 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 io gioco con il contratto. Il deposito del contratto è un importante strumento al servizio di noi giocatori Delle nostre società e di tutto il movimento della palla a mano È importante conoscerlo Consulta tutte le informazioni nella sezione Atleti sul sito FIGIH